sta 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 correre dov'è Sofì? dov'è Sofì? cerchiamo un'indiana eccola che arriva eccola eccola sarà la prima a sfilare è proprio molto preoccupata Sofì ce la puoi fare mi raccomando ostacoli superati Siamo alla festa di carnevale a cavallo Andiamo a vedere dov'è Sofì Vediamo se riconosciamo Sofì Chi è? Sarà mica quella vestita da indiana Eccola È tutta impegnata qui A pulire Junior Sei Junior tu? Sofì è Junior lui vero? Sì Junior Ok ora si preparano le stinchiere sotto le zampe del cavallo Le bimbe hanno già sellato il cavallo Sono tutte in tente Tutte vestite da carnevale A preparare Junior Junior e gli altri cavalli Abbiamo Rebecca bellissima Unicornosa No top Abbiamo una piratessa E tu sei una Una huayana Una huayana bellissima ragazzi Zorro Non sono zorro Allora scusa Tu sei Cowboy È giusto Cowboy Ragazzi ragazzi C'è qui un fermento Perché fra poco inizia la gara Sì avete capito bene Sofì Farà la sua prima gara a cavallo Non ci posso credere Speriamo che vada tutto bene Ma sì sicuramente Adesso ha fatto qualche lezione Se la sa cavare E sarà una vera indiana Ed ecco che arriva Wonder Woman Distruttrice di Sofì Bellissima Sembra una mazzone A cavallo Ma in questo momento in bicicletta È A bicicletta tra i cavalli Wonder Woman tecnologica Ma che cosa fanno Hanno dimenticato i cavalli Ta 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 Correre Dov'è Sofì? Dov'è Sofì? Cerchiamo l'indiana Eccola che arriva Eccola 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 Sofì salito cavallo Su Junior Sarà la prima A sfilare A UGG Sofì è preoccupatissima Perché sarà la prima a sfilare E quindi è molto tesa Non sono riuscita neanche A inquadrarla Perché ho dovuto rassicurarla E adesso vediamo Ma lei è pronta Solo che Essendo la prima di tutte È proprio Molto preoccupata Sofì Ce la puoi fare Mi raccomando Sei la prima Ma non importa Ce la puoi fare Perché le cose le sai Niente ragazzi Ragazze Non ce l'ho fatta Consolare Sofì È veramente Un pezzo Un blocco di legno Un blocco d'acciaio Dall'attenzione Il fatto di dover partire Per prima La preoccupa Spero che dopo Ci potremmo divertire E fare la festa Ci siamo Inizio Sofia È la prima Superwoman e Batman Stanno accompagnando Le amazzoni Ha già iniziato il giro Già Sta andando bene ragazzi Sta andando bene Numero uno L'azzurro Ok Ostacoli superati Giro Forse adesso Sofì Ha capito bene Il percorso Altro ostacolo Rosso Giro Ragazze Allora Sofì Qui c'è la tua amica Gaia Avete tutte e due Partecipato alla gara Come è andata Però voglio la verità Di come vi siete sentiti Allora Inizia Gaia A me mi è andata bene Tanto Che quando dovevo fare tutto il giro Al trotto È andato col galoppo Però le ho formati E ho detto Perché? Forse perché ho detto Ho dato troppo gambe Non volevo che cedeva E non è facile Poi nel percorso Mi sono sentita bene Soltanto che In un attimo Mi sono sentita tipo volare Perché ero attaccata alla sella E facevo giusto Ma Mi è dispiaciuto Perché Forse non ho dato i segnali giusti A Junior Ed è andato un po' al trotto E un po' al galoppo Però Mi è piaciuto Avete capito Che è molto complicato Fare una gara a cavallo Perché Non ho quasi capito niente Di quello che ha detto Gaia Però vorrei Anche le emozioni Di Sofì Come ti sei sentita Se ci sono state Dei problemi È andato tutto liscio Come è andata? Mi è piaciuto Solo Che alla fine Non Sapevo Quale variera andare Non mi ricordavo Dove era il numero Se io ho fatto Un po' di casino Vabbè ci sta Ci sta Sofì È andata benissimo Comunque Insomma La tensione è andata via È carnevale Possiamo fare un po' Di festa Ci sta Che cosa fai? Mi giro Mi guarda così Allora ragazzi siete pronte per la festa di carnevale? siiii allora fate quello che volete noi vogliamo vedere, soltiamo la propria, dobbiamo mangiare Gaia, Sofì dove siete? Gaia c'è la festa di carnevale, apponta qualcosa Poi saltate giù anche di qua Giro giro tondo casca il mondo casca la terra Tendi giù per terra! e il winner è... ah no non è scusate, scusatelo va bene me ne vado, me ne vado siete stati tutti bravissimi e quindi meritate il primo premio bravi! brava Raffaello brava Marta brava Sofia e adesso le assistenti offriranno il regalo più dolce ma vabbè riuscite ad avere il primo premio tutte e tre, tutte e tre il primo premio della categoria tenuti daia fatemela vedere mmmm pizza e Gaia tu cosa hai preso? patatine e panino e anche io ho preso le patatine vediamo mmmm ho segnato le medaglie ci siamo divertite tantissimo e ancora la festa continua perché Sofi si sta divertendo a saltare sulle valle di Fieno con altre amiche eccoci siamo a casa siamo tornate la gara è finita è stata una giornata lunga e intensa vero Sofi già però adesso abbiamo il tempo perché lì c'era un po' di gente finalmente per parlare con voi oooool la estrellita io sono Sofi e lei è Moni insieme siamo la lunas e noi abbiamo già iniziato a festeggiare il carnevale voi quando lo festeggerete vestite da indiane e voi da che cosa vi travestirete? scrivetelo qua sotto nei commenti e soprattutto se avete già una festa o dove andrete siamo molto interessate e e curiose si 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 allora come avete visto prima di andare a fare la gara abbiamo fatto il percorso a piedi che abbiamo percorso come dei cavalli non so perché ci hanno fatto correre e non andare a passo siamo andate sopra alle barriere meno male che c'erano i numeri o se no io ciao ciao poi io ero tesa perché ero proprio la prima di tutti ad iniziare ho fatto tutto il percorso tutto il percorso me lo sono ricordata ma l'ultimo non mi ricordavo dove era l'ultima barriera il numero sei e allora ho fatto un po' di casino anche perché comunque Sofì tu non è da tanto che stai cavalcando che hai iniziato a ad andare a cavallo e quindi immaginatevi è stata la prima ad aprire la gara Sofì eri proprio avevi un volto tutto scuro così poi comunque è andata dai è andata poi ci sono state le prime azioni che non sono stata terza non sono stata seconda ma sono stata prima mi hanno dato la medaglia ehm vi spiego è un cavallo con sopra che sta montando una cavallerizza sei stata prima a pari merito sì c'è chi non lo sapesse che cosa vuol dire pari merito vuol dire che sono stata prima con altri due bimbi e poi hanno fatto dopo c'erano anche gli insegnanti che hanno fatto loro i salti era una dimostrazione non era una gara poi c'era un cavallo che saltava anche più alto dell'ostacolo ci sarà tra di voi chi ama i cavalli c'è chi magari tra di voi va a cavallo devo dire che è un ambiente molto bello perché si sta a contatto con la natura con gli animali già poi oggi abbiamo preso una giornata di sole bellissima e voi avete mai vinto una medaglia non dico solo di cavallo ma anche degli sport che fate e poi sono andata nella paia mi sono sdraiata vorrei dormire là non ti sei solo sdraiata hai anche saltato come una pazza poi c'era anche la tua amica Gaia mi siete divertite abbiamo mangiato abbiamo fatto la merenda eccetera eccetera comunque sia volevo dire non ho fatto niente ma io sono stanchissima e me ne voglio andare a letto però prima ho fame ma se vi è piaciuto questo video se vi piacciono i cavalli se vi piacciono gli sport e le medaglie allora iscrivetevi cliccate nella campanella dintla dintla e pollicciate vi mandiamo tantissimi ben sito ma non scappate perché ci avete scritto in tantissimi in tantissimi in tantissimi e è il momento dei saluti salutiamo Irene Tuzzoli e suo fratello Checco Fatima Asia e Amina Francesco Colasanti da Frosinone Francesca da Monte Sant'Angelo Ilari Polizzi Sara Carbone De Pilano Desire Gallo Jasmine Caur dalla Lombardia dove siamo noi Besito Sinidiani e continuiamo a salutare Azzurra da Nettuno Nouriman che in arabo vuol dire luce wow che bel nome Valeria Farci Maram dalla Sicilia Rim da Policoro Sofia da Barcellona Spagna Bianca Pisanti Ginevra Morra Giovanni Burre Emma da Bareggio e Daria Viselli Besito Sinidiani Uhuuu Se vi chiedete perché ho questa voce perché ho giù la voce salutiamo Jasmine Farag Sofia e mamma Alessandra Dall'Australia Uhuuu Antonio da Canicati Elisabetto Scorpione Jasmine Farag Aurora da Andrea Ciao Gaia Bergo Deye Fatu Besito Sinidiani Uhuuu E per ultimi ma non ultimi salutiamo Gioia Morello Alessandra Antico Sara Ibrahim Miriam Calabrese Giulia Mancarella Susanna da Roma Viola Antonelli Graziano da Locco Rotondo Viola Antonelli e salutiamo tutte ma tutte proprio le streglitas Besitos indiani Uuuu Ciao vi aspettiamo per il prossimo video Ciao Ciao